Il rapporto tra artista, curatore e gallerista sicuramente è modificato perché io vedo rispetto a quello che accadeva per esempio 20, 30, 40 anni fa in cui c'era un gallerista che faceva il suo ruolo, il curatore che aveva un suo ruolo e tutti insieme si progettava qualcosa a lungo termine mentre invece oggi mi capita per esempio di girare le fiere d'arte, faccio un esempio, vedere artisti che per due o tre anni sono sulla cresta dell'onda e spongono e poi dopo due anni lo stesso artista sparisce oppure la galleria non gli dà continuità perché si è persa la componente più l'interesse culturale e si bada di più al soldo, cioè al mercato vero e proprio quindi se un artista va lo spingo, lo vendo, se l'artista non vende lo accantono e avanti il prossimo ecco, questo è quello che vedo io